Novo Mania 2011, The Big Red Kick, la seconda edizione della manifestazione internazionale che si tiene a Shanghai e che porta sul mercato cinese i marchi di urbanware più trendy e contemporanei a livello mondiale. Come hai deciso di creare Novo Mania? Credo che abbiamo iniziato due anni fa, credo che questa è la seconda edizione. Quindi credo che quando abbiamo iniziato, abbiamo fatto molti brand in Italia, come May 60 e Replay, e abbiamo fatto molti show in Europa. E credo che questo concetto è molto speciale, la forma di fare le show in Europa. Che puoi andare in un'atmosfera, puoi portare le brand in, e il pubblico che hanno construito è bello. E poi tutti ci sono divertiti, quindi è una buona forma di fare. E prima volta in Cina, in tutti i trade shows di prima, tende a essere un po' più bambino e più commerciale. E per fare in questo modo, credo che sia più divertente, sia più come un festival, sia più commerciale. Quindi credo che questa è una nuova esperienza, soprattutto con le brand che facciamo, che sono i nuovi brand, che sono i nuovi brand, è una piattaforma molto buona per le brand europee che possiamo portare in Cina. E qual' edizione è? La seconda edizione, ora. E noi iniziamo con la terza edizione in 2012. Abbiamo in 2012 due edizioni, invece di una edizione. Quindi abbiamo una edizione in februari, a fine februari del 29. E la seconda, in septembre, abbiamo ancora bisogno di fare la date. La seconda edizione è stata anche un progetto per le brand europee che non hanno distribuzione in Cina. Quindi abbiamo bisogno di dare anche una piattaforma per trovare un modo per il nostro mercato. E ora abbiamo visto che tutti questi brand sono molto felici, con la decisione che hanno fatto, con la esperienza, con i clienti hanno un perfetto contatto con i clienti. Quindi credo che questo progetto per il 2012 sia ancora più grande. Quindi è stato un buon testo questa volta. Questa è stata un'opportunità in Cina per il nostro progetto. Abbiamo già trovato un progetto per il nostro mercato. ma anche come una sorta di fredda. Quindi abbiamo trovato un nuovo mercato per noi. Abbiamo trovato un momento per il nostro mercato, e l'opportunità di avere una esperienza in Cina. Abbiamo trovato un'opportunità di utilizzare questa grande opportunità, come l'abbiamo. E hai aspettato di trovare più compagni o più visite? No, noi aspettiamo qui un'especiale francese, persone di appartamenti e anche distributori. E come si va? Frizzo all'interno del mondo? All'interno del mondo? All'interno del mondo? Siamo molto concentrati su Europa, ma è andata molto bene. La firma è stata creata nel 1994 e è stata comprata nel 2008. E da questo dato la firma è arrivata con una nuova immagine, che è molto forte, credo, con una buona definizione di denim. E la firma è lavorata molto bene. Quando si è arrivato al mercato chinesi? Abbiamo entrato in China nel 2002. E ora abbiamo 120 anni di vendita in China. Questo è stato 10 anni fa. Quindi abbiamo aumentato la vendita, il nostro turno e il nostro presso. e quindi abbiamo aumentato la vendita ogni anno. E le storie sono le stagioni che hai in Europa o in U.S. o sono diversi? La cina è diversa da Europa e in U.S. Quindi cercare di comprare i paesi è abbastanza difficile. Ma in Cina abbiamo un business di department store che è molto importante per noi. E stiamo cercando di crescere in queste department store. e perché ora i paesi sono aumentati molto in Cina. Abbiamo trovato il nostro concepto europeo in i paesi. Quindi più piccoli e la stagione della stagione. e quindi più piccoli. Cosa pensi di Novo Mania? Fantastic Fer. È una seconda volta qui. Potete vedere il stand. È diventato più grande. Soprattutto l'anno prossimo sarà più grande. Ma è un fantastic Fer per mostrare la marca ai clienti. e cercare di penetrare il mercato in una buona forma. Come mai avete partecipato a Novo Mania? Abbiamo deciso di partecipare a Novo Mania perché la Cina ci sembrava un mercato interessante. Abbiamo delle buone situazioni e dei buoni risultati in Giappone e Corea del Sud. Quindi volevamo estendere il discorso Asia. Visto che in Europa e in Italia stiamo andando a fare più bene. Dalla prossima stagione cominceremo anche il Nord America con due distributori. Quindi volevamo fare il continente asiatico in maniera. Poi la Cina vediamo tutti che sta crescendo tantissimo. Ci sono tantissime possibilità di retail. Secondo te quali sono le possibilità di Boom Boogie in un mercato come la Cina? Le possibilità a vedere il mercato sono grandissime. Specialmente anche i buyer dicevano nella parte Nord della Cina dove insomma anche noi siamo un'azienda che fa parecchio capospalla può essere parecchio interessante per loro. E un concetto di department store con il nostro layout con questo tipo di discorsi può essere interessante che può anche quello che facciamo in Europa. Dove distribuisiamo Happy Socks? Oggi stiamo distribuire Happy Socks in circa 50 paesi. Secondo in Europa, avveniamo in America e poi andiamo a Japan, Asia, Australia e ora siamo cercando di creare in Cina e dopo che siamo in India. Abbiamo già iniziato in India quindi abbiamo avuto un'azienda molto bello. feedback China we started selling in for about half a year ago to some really opinion leading brands stores I mean is more boutiques that carry multi-brand and it's gone really well in China so I think the potential is bigger the first time you know many yeah and what do you think about the exhibition it's cool it's really good it's gonna be China's answer to the bread and butter it's gonna be big it has such a potential that China Chinese market when you see today we I don't know how many mall department stores or whatever visit us and saying like okay this year we're gonna open 200 department stores in China how many shops do you want we're like yeah yeah hang on a bit but everybody's developing here and it's I've never I've never seen anything like it it's fantastic